che si è venuto a casa un po' tardi, perché in realtà è una cosa che noi valsesiani chiediamo da più di un anno, perché non c'erano già nei progetti, adesso che l'ospedale è aperto non c'è ancora adesso, tra le quattro sale operatorie non lavorano neanche tutte e quattro, perché non sono neanche a posto tutte e quattro, l'elisoccorso non è ancora a posto, ci sono problemi, chiediamo l'intervento di poter mettere questo in servizio fondamentale. A Borgosese abbiamo fatto di tutto per avere un collegamento per portare la gente all'ospedale, soprattutto agli anziani, abbiamo moltiplicato i servizi, ci sono cose importanti, siamo in un momento di crisi, gli enti locali hanno sempre meno soldi, ma noi stiamo cercando, stiamo portando a casa dei risultati per il territorio, stiamo chiedendo aiuti alla regione che sono certo che ci verranno sempre di più dati, perché noi siamo un territorio che ha pari dignità con Torino e bisogna picchiare i pugni e io sono qua per fare questo, senza prendere un centesimo, lo ribadisco, perché per me la battaglia sul territorio, la battaglia per la Valsese è prioritaria e se la gente mi dà il mandato di combattere, io combatto, se la gente da 18 anni a questa parte mi dà fiducia, io vado avanti. E siccome lo ribadisco, a oggi non ho ancora ricevuto la lettera in cui mi si dice, la lettera ufficiale, che io mi devo dimettere, non mi dimetto, quando riceverò la lettera che mi devo dimettere, mi dimetterò, ma al momento non l'ho ancora ricevuta e comunque anche quando mi dimetterò dalla regione, ribadisco, ho un documento in mano del governatore, ma poi non servirebbe neanche perché con il governatore siamo amici veramente e l'ha detto davanti tutti in piazza, io continuerò a essere il punto di riferimento della regione in Valsesia e non solo, ed è importante, perché qua non vogliamo farci mettere più il cappello in testa da qualcun altro, però io questa puntata, ripeto, l'ho fatta per ribadire che io non prendo alcuna indennità da sindaco di Varallo, né a Borgosese con questi due enti, faccio risparmiare 50 mila Euro all'anno ai due enti che vengono spesi questi soldi, invece che darle il sottoscritto vengono spesi per il sociale, dalla regione non sto ricevendo niente, nessun soldo, ho fatto un documento per dire che non voglio alcun soldo e così è, quindi tutte le bagianate che sentite dire da qualcuno sono false, e quando diciamo come fai a fare tutte queste cose? Allora io vi dico, ma secondo voi, se uno come il sottoscritto gli piace combattere e gli sono portato a fare queste cose, ha portato a casa dei risultati, non guardo l'orologio perché mi piace fare quello che faccio, ho dentro di me una specie di anticorpo perché quando vedo tanti cretini, tanti che si fingono salvatori della patria e poi sono solo qua per farci del male, oppure travestiti valsesiani che sono solo dei gran leccaculo, io combatto e non guardo l'orologio, io non gioco a tennis, non ho degli hobby particolari, a me piace amministrare e fare politica per il mio territorio, per cui la gran parte del mio tempo, circa 14 ore al giorno le dedico anche di più, le dedico esclusivamente al mio ruolo, che sia a Varallo, che sia a Borgosesia, che sia a Roma e anche a Torino, lo dedico a questo, poi qualche ora dormo, ovviamente, poche ma dormo e poi naturalmente ho anche un minimo di vita privata, quando riesco, queste sono le mie 24 ore, se potessi esprimere un desiderio mi piacerebbe che il Signore mi regalasse, invece che 24 ore al giorno, 30 ore al giorno potrei andare un po' meglio, però oggi io, a differenza di prima, per ricevere la gente a Varallo ad esempio, li ricevo il sabato e la domenica e quindi sacrifico ancora di più la mia vita privata pur di continuare a cercare di fare il possibile, perché mi sto rendendo conto che solo lavorando in tutti questi enti, bussando le porte, cercando di portare a casa progetti, cercando di insistere sul nostro territorio, si possono portare a casa dei risultati, altrimenti stare seduti e stravaccati e fare quelli che se la tirano pensando che tanto tutto sia dovuto, tanto c'è lo stipendio, non fa per me, io durante una settimana, magari faccio 4-5 volte andate e ritorno da Roma, per poter poi la sera fare una riunione qua in Valsese e poi la mattina prestissimo, magari parto alle 4-4 e mezza del mattino per prendere il primo vero e torno a Roma, poi torno a casa ancora la sera e poi riparto la mattina, questo non è che lo dico per vantarmi, per dirvi che non è che sto lì a blanblanare, che sto a Roma a guardare il Colosseo o farmi un giro in via Veneto, se ho delle cose da fare torno anche indietro e riparto la mattina presto e quando dormo? Dormo poco e poi magari dormo sull'aereo, quello faccio, però mi piace farlo, mi sento di farlo, io so di avere tanti nemici, tanta gente che è invidiosa, cattiva, bugiarda, gente che racconta ballo in giro, però io so che la stragrande maggioranza della gente mi vuole bene, perché capisce che io cerco di fare qualcosa e anche quelli che cercano di gettarmi fango, che cercano di farmi tranelli, perché qua alla fine se non riescono sotto l'aspetto elettorale, l'ho già detto tante volte, perché la gente mi dà fiducia e io vi farlo, in altra maniera hanno già cercato di farlo, mandandomi gente che mi proponeva delle cose strampalate, che cercano di mettermi i bastoni tra le ruote, ma io vado avanti per la mia strada, perché sono convinto di quello che faccio e quando uno è convinto, invece in giro anche su, perché guarda internet, così ci sono quei quattro ciapparat lì che non riescono neanche a prendere i voti dei propri familiari che scrivono stupidaggini, che dicono è perché c'ha quattro posti, o c'ha tre posti, è perché non ce l'hanno loro, se loro non sono neanche votati del proprio condominio è mica colpa mia, se non hanno il consenso della gente non è mica colpa mia, se non riescono a portare a casa risultati non è mica colpa mia, se sono vicini a persone che è meglio perdere che trovarli non è mica colpa mia, allora ognuno faccia quello che deve fare e poi si giudicherà, quindi io vi ringrazio, chiedo scusa per questa puntata ma ho voluto sottolineare per l'ennesima volta quando ci sono voci stupide generate da gente ignorante, cattiva, bugiarda, che cercano sempre di mettere in cattiva luce, chi? Mettono in cattiva luce quello che se non ci fosse, cioè io, magari gli altri starebbero molto meglio, io sono il personaggio da eliminare, io sono il personaggio scomodo, io sono il personaggio che se potessero mi sparerebbero in testa a livello locale, idem a Roma, a Roma io non sono amato, quando vado in Parlamento molti mi guardano storto perché gli dico le cose in faccia, se devo parlare male, ovvio che sia, dei boss mafiosi, delle schifezze del Parlamento, del fatto che il Parlamento lavori poco o che comunque si perda troppo tempo per fare le cose, io lo dico lì e certamente do fastidio, quando dico dimezziamo i parlamentari, oppure dico dormite in piedi, o quando dico quelli che hanno il computer davanti in Parlamento, uno vede, ah c'hanno il computer, chissà stanno lavorando, no, giocano al solitario con le carte, oppure guardano le offerte delle automobili, tutte cose così, allora quella gente lì non serve a Roma, per quello che io dico che serve la metà delle persone a Roma, ma serve anche la metà in regione, io quando vado in regione in questo periodo mi viene male, perché è come Roma, solo che la distanza chilometrica è più piccola per tanti aspetti, e poi tanti che parlano, che parlano così e poi quando è l'ora di lavorare dormono in piedi, ecco questo è un sistema che a me non piace, io sono contro questo sistema, e siccome io sono contro, tanti cercano di eliminarmi, o comunque cercano di mettermi in cattiva luce, staremo a vedere, intanto per farvi un esempio e chiudo, casualmente in questi anni mi hanno svitato i bulloni di una ruota della macchina, chissà perché, ho la portiera della macchina che è più rigata di non so che cosa, è lì da vedere, lettere anonime, tre minacce di morte, e questa è queste cose qui da dove arrivano? Uno arriva dalla Calabria addirittura, e perché succede questa cosa? O denunce in giro su chissà quali situazioni, sempre anonime, perché succedono queste cose? Per colpirmi, o direttamente o indirettamente, e voi date un giudizio sul perché succede sempre sottoscritto. Alla prossima, ciao! Ciao!